E' stato trovato tra gli scogli del molo di Fano, quelli che guardano verso la spiaggia del Lido, quasi seduto in posizione supina e privo di vita. Si sono concluse alle 12.40 di questa mattina le ricerche di Franco Ceccarelli, di 81 anni, uscito di casa ieri sera tra le 21 e le 22 volontariamente, eludendo la presenza dei suoi familiari e lasciando le sue cose in garage. Sono stati due operatori della protezione civile di Fano, appartenenti al CB Club Mattei, che avevano come zona da perlustrare il settore del molo, che nonostante la nebbia, che a tratti rendeva difficoltosa la ricerca d'occhio nudo ad avvistarlo e a comunicarne via radio il ritrovamento, mentre l'unità anfibia dei vigili del fuoco proveniente da Pesaro stava perlustrando a bordo del battello pneumatico il tratto di canale al bar. Ceccarelli che soffriva di Alzheimer lo hanno cercato nel canale albano, nel porto canale, nelle spiagge e nel tratto di mare compreso tra la foce del Metauro e Fosso Seiore, non che in ospedali, strade cittadine ed extraurbane e locali di ritrovo. Era uscito di casa con un abbigliamento leggero, senza soprabito, non certo consono, alle rigide temperature notturne, anche sotto lo zero termico, di questo periodo dell'anno. Ora i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, dovranno stabilire l'esatta ora del decesso e la sua causa. I familiari lo stavano cercando da ieri sera, assieme ai militari dell'arma di Fano, dopo che ne avevano denunciato la scomparsa e questa mattina, dopo una nottata senza sue tracce, dopo un vertice in Prefettura è scattata la ricerca interforze che ha portato poi al ritrovamento del suo cadale. Sul molo, oltre alla guardia costiera, questa mattina sono arrivati gli uomini del commissariato, i carabinieri, il personale sanitario del 118 e le squadre dei vigili del fuoco che, una volta individuato il corpo, hanno atteso che i medici ne decretassero il decesso, oltre che i vigili del fuoco e protezione civile impegnati nelle ricerche. Ceccarelli, molto noto a Fano, spesso lo si poteva trovare lungo il corso o in corrispondenza della fontana, dove alle volte eseguiva canzoni e intonava brani, per intrattenere i passanti anche con racconti e storielle, ed era anche un amante del carnevale. Ceccarelli lascia la moglie e due figlie.